Inizia ad essere più comune imbattersi in queste diciture perché con l'evoluzione delle soluzioni di connettività in fibra e la concorrenza tra i vari fornitori si tende a specificare sempre più dettagli della connessione stessa e in alcuni casi dei potenziali problemi delle reti moderne. In questo video vedremo cosa significa il PV4, il PV6, quali sono le differenze, quali i limiti e i potenziali problemi così da capire meglio come interpretare queste diciture. Prima di continuare voglio dedicare pochi secondi allo sponsor di questo video. Ti chiedo gentilmente di dare un'occhiata al link che lascio qui sotto in descrizione, è un piccolo gesto che supporta le tante ore di lavoro necessarie per continuare a realizzare e caricare video su questo canale. Lo sponsor di oggi è Crypto.com e vi do tre motivazioni per voler utilizzare questo servizio. Se già possedete delle criptovalute su vari wallet e avete intenzione di tenerle per molto tempo come sto facendo io con l'obiettivo ovviamente di guadagnare sul lungo termine, Crypto.com vi offre la possibilità di aumentare la quantità di criptovalute che possedete semplicemente bloccandole per un tot di mesi e maturando una sorta di interesse che può arrivare addirittura al 14,5%. Seconda motivazione è proprio la semplicità dell'applicazione perché operazioni come quelle che vi ho appena descritto si fanno con veramente pochi clic sull'app ovunque sarete quando vorrete direttamente da smartphone. E punto 3 fate la carta di debito crypto anche se fosse come dire la versione base che non vi costa nulla e vi dà comunque un cashback in criptovalute per ogni acquisto che farete. Vi suggerisco quindi di dare un'occhiata al link che vi lascio qui sotto in descrizione. Non solo potreste trovare un servizio che vi torna utile ma supporterete anche il mio lavoro su questo canale. Grazie a voi per il supporto e a Crypto.com per aver sponsorizzato questo video. I PV4 e i PV6 significano Internet Protocol e la V sta semplicemente per versione e il numero è il numero della versione. Il protocollo Internet in versione 4 e il protocollo Internet in versione 6. Ma cos'è un protocollo Internet? Si tratta di una serie di regole che definiscono il modo in cui i dati devono e possono viaggiare attraverso Internet. In pratica tutti gli apparecchi connessi alla rete che compongono Internet sono fatti in maniera tale da seguire e comprendere queste regole che gli permettono di parlare tra loro e scambiarsi i dati tra loro. I dati che vengono spediti tramite Internet sono divisi in tanti piccoli pacchetti. Un grande file che deve essere trasferito da un computer all'altro tramite Internet non viene spedito tutto intero. Mi si viene appunto diviso in tanti piccoli pacchetti più piccoli di dati. Ad ognuno di questi pacchetti di dati viene aggiunto un pezzettino di dati che include le informazioni che dicono dove quel pacchetto deve andare. Si parla di IP address, cioè indirizzo P. È un indirizzo che viene assegnato a ogni dispositivo connesso alla rete Internet. In questa maniera tutti i dispositivi, come ad esempio i vari router connessi a Internet, leggono questo pacchetto dati, quindi leggono le informazioni riguardanti a dove questo pacchetto dati deve andare e lo estradano su tutta la rete in maniera tale che possa arrivare a quella specifica destinazione, quindi quello specifico server o PC. Poco fa ho parlato di indirizzo IP e l'ho descritto come un indirizzo che viene assegnato a ogni dispositivo connesso a Internet. Tutti noi siamo venuti in contatto con un indirizzo IP, poiché avrete visto insomma prima o poi da qualche parte quel numero composto da quattro terrazzetti di cifre, ad esempio 192.168.156.123 o anche 192.168.1.1. E questo solo per specificare che non sempre devono esserci tre cifre per ogni gruppo, ma un massimo di tre cifre per ogni gruppo, con delle limitazioni che vedremo tra poco. Quando voi digitate www.youtube.com in realtà state chiedendo al vostro computer di collegarsi a un determinato indirizzo IP. L'indirizzo IP che identifica i server di Google su cui è presente la piattaforma YouTube. Ma siccome Internet sarebbe decisamente difficile da navigare, se dovessimo digitare nella barra di ricerca del browser tutti questi numeri, ricordarci questi numeri, è stato creato quello che si chiama DNS, cioè un servizio che si occupa di tradurre dei nomi normali come youtube.com in indirizzi IP. Senza entrare nello specifico il DNS Resolvere è una sorta di rubrica telefonica dove voi cercate un nome e cognome e lui vi dice il numero. Nel nostro caso il nome e cognome è l'indirizzo del sito www.youtube.com e il numero di telefono è l'indirizzo IP. Ogni pacchetto dati di cui abbiamo parlato poco fa include l'indirizzo IP del mittente, cioè il vostro computer ad esempio, e l'indirizzo IP del destinatario, cioè il sito web a cui volete collegarvi. Un po' come accade quando mandate una mail in cui presente l'indirizzo del mittente e quello del destinatario. Abbiamo parlato di pacchetti dati. Vale la pena dedicare quindi qualche secondo anche per capire come sono strutturati i pacchetti dati che vengono inviati tramite Internet. Ovviamente la maggior parte di questi pacchetti dati è composta da i dati stessi, come dire, che si vogliono trasferire e considerate con dati tutti quei bit, quegli 1 e 0, che compongono tutto quello che facciamo e vediamo tramite Internet. Questo stesso video che voi state vedendo, i dati che compongono le immagini e la voce che sentite vengono ricevuti dal vostro computer sotto forma di tanti piccoli pacchetti dati inviati uno di seguito all'altro. C'è poi quella piccola parte di informazioni che vengono aggiunte a ogni pacchetto, quindi una serie di 1 e 0 che includono le informazioni sugli indirizzi P di cui abbiamo parlato poco fa. C'è poi la dimensione del pacchetto dati, il TTL, c'è un parametro che definisce il numero di tentativi che il pacchetto dati deve fare per essere consegnato prima di essere scartato, nel caso in cui ci siano ovviamente problemi di comunicazione. C'è anche il tipo di protocollo usato per il trasferimento dati, di cui magari parleremo in un altro video. Insomma ci sono tante informazioni, queste sono solamente alcune delle informazioni incluse in questa piccola porzione di dati aggiuntiva che viene attaccata ai dati stessi che devono essere trasferiti. Probabilmente sarei potuto partire direttamente da questo capitolo, ma ho voluto dare le informazioni che vi ho dato fino ad ora per darvi, come dire, degli elementi, per capire meglio degli elementi che entrano in gioco quando c'è il trasferimento dati tramite internet, perché ovviamente credo che siano informazioni interessanti e in realtà permettono di capire un po' di più tutto quello che succede. Abbiamo quindi definito cos'è un internet protocol e la versione 4, cioè il PV4, è un protocollo, la quarta versione del protocollo IP ed è un protocollo a 32 bit, cioè significa che questi 4 terzetti di numeri che compongono l'indirizzo IP occupano una memoria dei 32 bit. Spieghiamo meglio. L'informatica non ragiona con i numeri 192.168.1.1, ma se ognuno di questi numeri deve essere tradotto nel linguaggio binario. Se traduciamo il linguaggio binario al numero 192 otteniamo 110000, mentre se trasformiamo 168 otteniamo 1010100 e così via. Quindi un indirizzo IP a 32 bit è diviso in 4 terzetti da 8 bit ciascuno e ognuno di questi può prendere il valore massimo di 255 che in binario è pari a 81111111111. Non voglio crearvi confusione con la matematica binaria, quindi in breve basti sapere che il PV4, protocollo internet in versione 4, essendo impostato in questa maniera ed essendo quindi un protocollo a 32 bit, considerando tutte le combinazioni di queste 4 terzette di numeri che funzionano come vi ho appena detto, può generare circa 4.2 miliardi di indirizzi IP. Dato che abbiamo detto che un indirizzo IP è usato per identificare un dispositivo connesso a internet ed è un'informazione necessaria ed essenziale per permettere ai dati di essere inviati dal dispositivo A a un dispositivo B, allora pare chiaro che questo protocollo internet ha delle chiare limitazioni. Siamo più di 7 miliardi di esseri umani sulla terra, forse quasi 8, e quindi questo protocollo non è in grado di connettere tutti gli esseri umani a internet. È anche vero che non tutti gli esseri umani sono connessi a internet, ma dati aggiornati a inizio 2022 dicono che ci sono circa 5 miliardi di persone ad oggi connessi a internet e, come dire, con un ma ancora più grande, tutti noi abbiamo più dispositivi connessi a internet e ognuno di questi deve essere identificato in maniera univoca, altrimenti non riuscirebbe a comunicare. Io, da solo, tra computer, smartphone, smart tv, assistenti vocali, addirittura automobili, avrò 30-40 dispositivi connessi a internet e non sono l'unica persona che, come dire, ha così tanti dispositivi connessi a internet. Dato che questo numero massimo di indirizzi P supportati dall'IPv4 è già stato sorpassato da tempo, è lecito quindi chiedersi come l'industria ha risolto il problema della mancanza di indirizzi, perché questo IPv4 viene utilizzato ancora oggi. Una soluzione è chiaramente l'IPv6, ma prima di arrivare a questo sono state, come dire, inserite altre due soluzioni che in realtà hanno molto in comune. Prima di tutto, già da molto tempo, si è fatta distinzione tra IP pubblici e IP privati. Poco fa ho detto che io stesso ho decine di dispositivi connessi alla rete, ma questo non significa che ad ognuno dei miei dispositivi è stato assegnato un indirizzo IP da internet. Fatemela passare in questo modo. Infatti l'unico dispositivo, tra quelli che ho collegati in casa, a cui è stato assegnato un indirizzo IP pubblico, quindi visibile da internet, è quello del mio modem router. Dopodiché tutti i miei smartphone, assistenti vocali, smart tv e via discorrendo, che ho connessi alla rete e che tramite il mio modem router si collegano a internet, tramite cavo o wifi, certo hanno un indirizzo IP. Un indirizzo IP nella stessa forma dell'IPv4 che abbiamo visto prima, ma un indirizzo IP che è stato assegnato dal mio modem router. Quindi quando io dal mio computer faccio una richiesta di collegamento a YouTube, quindi invio quei pacchetti dati con dentro tutte le informazioni, in realtà il mio computer li invia al mio modem e poi sarà il mio modem a mettersi in contatto con YouTube, che poi YouTube risponderà al mio modem e a sua volta il mio modem risponderà al mio computer. In questa maniera è quindi possibile creare dei piccoli universi di indirizzi IP scollegati tra loro in cui possono essere replicati quei numeri identificativi del dispositivo, quegli indirizzi, ma che essendo all'interno di universi separati non andranno a sovrascriversi tendenzialmente e quindi creare problemi di indirizzamento dati. Questo da solo, nonostante sgravi internet, diciamo così da un sacco di indirizzi IP, non è ugualmente sufficiente per supportare la quantità di dispositivi che necessitano di connettersi in rete, connettersi a internet. Ecco quindi che questo stratagemma che viene descritto è stato adottato anche a livello superiore, quindi un tot di modem collegati a internet. In realtà sono collegati loro stessi a delle apparecchiature che fanno la stessa cosa che fa il mio modem con i computer e i dispositivi che io ho in casa. Si parla di condivisione di IP, poiché queste apparecchiature che aggregano più modem, quindi più utenti, più case, sono visibili su internet con un singolo indirizzo IP. I dati partono dal mio computer, arrivano al mio modem, che li manda una cgn, questa apparecchiatura che viene aggiunta alla rete, che poi li manda YouTube. YouTube risponde alla cgn, che risponde al mio modem, che risponde al mio computer. Mettendo quindi più livelli prima di entrare e uscire da internet, diciamola così, è possibile moltiplicare la quantità di dispositivi connessi in rete senza consumare i più di 4 miliardi di indirizzi fisici offerti dall'IPv4. Ovviamente ogni strato, ogni livello aggiunge complessità alla rete e soprattutto genera ritardi nella comunicazione. L'IPv6, l'avrete già capito, è una versione potenziata dell'IPv4 e la differenza principale è che è un protocollo a 128 bit, costruito con un mix di informazioni binarie e decimali, in grado di indirizzare due alla 128esima dispositivi. C'è un numero che fa tipo 340 trilioni di trilioni di trilioni. Boh, non so, non riesco nemmeno a immaginare un numero del genere. Comunque, decisamente tanti. Mentre si metteva a punto l'IPv6, non ci si concentrò unicamente sul modo di aumentare la quantità di indirizzi, ma anche sul modo in cui funziona. Quindi è stato ottimizzato il modo in cui i dati sono organizzati, le informazioni necessarie per l'indirizzamento e il routing, è stata incrementata la sicurezza e, come dire, in generale l'IPv6 è più veloce. Quando si fa questa affermazione ci si riferisce al fatto che essendo potenzialmente mappabile su indirizzi pubblici ogni praticamente dispositivo, vanno a mancare tutti quei passaggi dell'esempio che vi ho fatto poco fa riguardanti l'IPv4, quindi c'è meno stratificazione e di fatto quindi la comunicazione risulta più veloce. Se abbiamo imparato che quella V e quel numero identificano unicamente la versione del protocollo, qualcuno potrebbe chiedersi ma che fine ha fatto l'IPv5? In realtà è esistito in fase sperimentale, era anche chiamato internet stream protocol ed era un protocollo ottimizzato per lo streaming audio e video. Tuttavia aveva la stessa limitazione dei 32 bit dell'IPv4 e di conseguenza è stato abbandonato poiché senza futuro. Il passaggio dell'IPv6 in realtà è in atto da tempo ma considerando che questo standard è stato definito vent'anni fa è lecito chiedersi perché siamo ancora qui a parlare dell'IPv4 e degli IP condivisi. In realtà le motivazioni dietro a questa lentezza sono principalmente da ricercare nel fatto che un passaggio del genere non si fa cliccando un pulsante. I dispositivi che compongono la rete internet da quelli casalinghi ma soprattutto quelli industriali quindi quelli che gestiscono tutte le comunicazioni internet a livello mondiale, quelle delle telco, di tutte quelle aziende che creano e gestiscono le reti devono essere compatibili con lo standard IPv6. Questo significa rinnovare le reti, spendere un sacco di soldi e allo stato attuale i costi sono più alti rispetto all'implementazione delle soluzioni di cui vi ho parlato prima che permettono di mantenere in vita l'IPv4. Non significa che non si sta facendo questo passaggio. È normale che se uno costruisce una nuova rete punti all'IPv6 ma il riciclo delle vecchie reti è lento e di conseguenza va tutto a rilento. Adesso ci troviamo anche nelle situazioni in cui pezzi di rete sono IPv4 e altri pezzi sono IPv6 e quindi vengono messe delle parecchiature in mezzo in grado di tradurre le informazioni per passare i dati su entrambe le reti. Insomma il processo è lungo e continuerà per anni. Io mi ci ringrazio per avermi seguito in questo video. Spero come detto di avervi dato tante informazioni curiosi o utili. Se vogliamo parlarne facciamolo qui sotto nei commenti, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!